L'undicesima edizione del premio Città di Prato Arte di Parole Gianni Conti avrà come filo conduttore le voci, tema ispirato ad Accia Maraini che l'anno scorso ne è stata la testimonial. Il premio è promosso dall'Istituto Gramsci-Keynes con la collaborazione del Comune di Prato e l'organizzazione del salotto letterario Conti di Sesto Fiorentino. Quest'anno il premio è stato inserito nelle eccellenze del Ministero, questo è un motivo di grossa soddisfazione per la nostra scuola che dà valore, prestigio e soprattutto dà quella visibilità importante. Abbiamo la partecipazione di Luca Bindi come presidente del premio. I racconti brevi, massimo 12.000 battute, dovranno essere consegnati entro il 22 marzo. È dedicato a tutti i ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia, gode del contributo del Comune di Prato e della Fondazione ed è a tutti gli effetti il premio letterario della città, per giovani lettori che sono anche scrittori. La premiazione è prevista nel mese di maggio. Intanto è stato pubblicato il volume con i racconti dello scorso anno. La copertina, come sempre, è stata realizzata da uno studente del liceo artistico Brunelleschi. Questo testo, tra l'altro, è particolarmente gradevole proprio per i racconti dei ragazzi. E, oltretutto, avere la preparazione di traccia marini era una cosa ispirata all'inizio. Sono Optimist International Prato, Rotary Club Prato, Filippo Lippi, Famiglia Pagnacco, il ricordo di Pier Francesco Pagnacco e la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato sono i sostenitori del premio. Queste sono occasioni che sono le benvenute per la politica dell'associazione rivolta anche ai giovani. Siamo presenti come sostenitori del premio Marte dei Parole fin dalla prima edizione.